Ciao a tutti, benvenuti su Gossip e Newsita, il canale dove potrete scoprire tutte le ultime novità e pettegolezzi dal mondo dello spettacolo. Oggi vi raccontiamo una incredibile storia che coinvolge la famosa Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, vittima di un clamoroso furto. Due malviventi incappucciati le hanno strappato il prestigioso Rolex dal pulso mentre si trovava in auto a Roma. Un episodio agghiacciante che ha gettato Sonia nel panico, ma per fortuna senza conseguenze gravi. Il modus operandi dei rapinatori sembra essere stato ben studiato, un colpo pianificato in modo impeccabile in pieno giorno in una zona nota per i furti di orologi di lusso. Sembrerebbe che si tratti di una banda specializzata nel furto di Rolex, che ha colpito ancora una volta nel cuore di Roma. La notizia ha scatenato grande allarme e interesse, ma la priorità rimane sempre la sicurezza e l'incolumità di Sonia. Vi esortiamo dunque a rimanere sintonizzati su Gossip e News Ita per tutte le ultime news e segreti del mondo dello spettacolo. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel pollice in su e lasciare un commento con le vostre opinioni. Grazie di cuore per il vostro sostegno, vi aspettiamo al prossimo video pieno di scupe e chiacchiere imperdibili. A presto!